Musica Ciao a tutti sono SpigaNavantotto e benvenuti in una nuova puntata di Splinter Cell Blacklist Qui è dove ci trovovamo nella vecchia puntata Ah ok ora devo trovare un metodo migliore perché c'è un cane di merda che ce l'ha con me Scendi veloce Direi di utilizzare la pistola con la corrente passo qui ok Poi passo al prossimo riparo A questo Lo fulmino Passo all'altro riparo Passo all'altro riparo Non hai visto niente A questo come passa lo fulmino Scusami mi dispiace Bastardo di un cane E che cazzo stai a baiare? Esatto Più di puttana Cane di merda Non ci posso credere Proprio un cane di merda Stronzo Amico dell'uomo Si Ok basta Cambiamo discorso che è meglio Ho un solo colpo quindi non so se mi conviene Mi giuro non so esattamente cosa fa Forse dovrei eliminare prima il cane So che suona un po' brutto però Oddio No 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 Faffanculo Stronzo Ammazzatemi Ma tu un cane di merda mi ha rotto le palle Diversivi acustici Devo utilizzare diversivi acustici Solo che In tutta franchezza non so esattamente come li devo usare Cioè ho capito che li devo lanciare però Quanto durano No non mi conviene Ehi aspetta perché si sta avvicinando qui Prima non l'ha fatto Scendi Se passa quel riparo mi vedono No Diversivo acustico Dai non hai visto niente Bastardo Mi sa che in questo video ritorneremo con la storia della pippa Perché lo sono Sto un attimo in silenzio Devo concentrarmi Il cane di merda Ti ammazzo Che cosa ho usato Ammazzatemi Sto cane di... Ammazzami Ammazzami veloce Tanto me la paghi adesso Sei il primo che morirai Sappilo E aspetta Ho un colpo nella pistola Giusto Ok perfetto L'hai voluto tu Vabbè ne prendiamo questa adesso Faccio vedere io Cane di merda Me la paghi Per tutto adesso Che cazzata che sto facendo Ti prego vai veloce Non ho visto niente Non ho visto niente Bravo Come ti avevo detto Tri rotore Vediamo se ha Più colpi di me Arma non silenziata Però almeno 20 colpi Ok Vanno questa Mi nascondo C'è il cane di merda Speriamo che non ci sia La protezione animali Non ho visto un cazzo Invece Ciao cucciolo Ringrazia Perfetto Perfetto No E' uscito Dì Gioccola No 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 Nasconditi Sono nella merda Porca Non ci posso credere C'ero quasi L'avete visto anche voi C'ero quasi Non vale Ok almeno so Circa come fare Insomma Quel cane di merda Lo devo uccidere Non lo devo stordire Lo odio Diversivo acustico Sì sì Quindi dobbiamo subito Bloccare questo Bloccare questo Appena si avvicina Stronzo mi hai fatto sprecare tutti Ti odio Sì Figlio di puttana Mi hanno ammazzato Grazie 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 Proprio gentili Gentilissimi E' così difficile Una missione di Questo gioco Se iniziassi direttamente Da qui Ed è perfetto Cane Guarda mi son qui Quindi veloce Va a fare in culo Cioè Volevo dire Sì avete capito Sta arrivando quel cane Oh merda Perché mi deve sempre Fa sprecare tutto Muori Stronzo di merda Oh merda Calma Quanti sono Ho bisogno Di cerne uno Dovete ritirarvi Oh merda Maledetti Non posso credere Di dover passare Due puntate Per una missione La prima missione Ok ok Prima ce la salvo Per fare Passando da qui Si tratta di andare piano Pianissimissimo Chiacchierate dopo Va bene No 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 Smettila Smettila Non incominciare No Sono troppo lontano Non voglio rischiare Purtroppo Sono completamente Senza Giusto Adesso che ci penso Per sicurezza Se ha qualche arma Gliela fottiamo Scusate Perfetto Prendiamo questa Ci nascondiamo Passiamo qui Passiamo al prossimo riparo No Non hai visto Sto cane di merda Ti sei sentito male Va bene Aspetta Qualcuno Ce l'ha a tiro No no Continua Una granata Dovrebbe bastare Che palle Con sa granata Ok Coprimi le spalle Ti copro Dai Granata Merda Fanculo Ti ringrazio Non può sfuggirci Lo troveremo Non aveva armi Spostati No Ne caveremo mai piede No Ce la dobbiamo fare Ce la dobbiamo fare Almeno per questa puntata Non è vero Non dire che cazzo Non hai visto niente Ehi che hai Non stare male Bastardo Ok Quindi Adesso Abbiamo risparmiato Innanzitutto Un proiettile Di questa pistola Quindi dovremmo essere Un pochino avvantaggiati No Merda Sì Me lo sento Stavolta ce la facciamo Devo cercare di finirlo In questa puntata Merda Sta arrivando il cane Malefico E' cattivo Questo cane Non mi hai visto No Stai male Ok 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 Ma quanti cazzo sono Ti vedo afgano Ti ho preso Inutile che ti nascondi Va bene Per questo episodio è tutto Vi ricordo che se vi è piaciuto Se vi è piaciuto il video Mettete mi piace Iscrivetevi e condividete Vi aspetto Sul mio sito Tra l'altro Come vi ho già detto Ho fatto un restyling Quindi vi aspetto E' su twitter Su google plus E' naturalmente sul canale E' video è finito Ciao a tutti Ciao a tutti